I componenti dell'ultimo CDA di Banca Etrugia sarebbero formalmente indagati dalla procura di Arezzo con l'ipotesi di reato di banca rotta fraudolenta, tra di loro dunque anche Pierluigi Boschi, padre del ministro Maria Elena. Sotto la lente dell'accusa alcune maxiuscite che sembrerebbero macroscopiche se messe in relazione alla drammatica situazione in cui versava l'istituto prima del commissariamento. 1,2 milioni di liquidazione all'ex direttore generale Luca Bronchi e 15 milioni spese in consulenza. Le spregiudicate operazioni vennero effettuate tutte malgrado l'evidente condizione di dissesto. Sulla somma liquidata a Bronchi ci sarebbe una richiesta di sequestro della procura sul tavolo del GIP. Tutto l'ex CDA votò a favore della liquidazione a Bronchi con l'eccezione di Grazzini che si era astenuto. L'ipotesi accusatoria è che dunque si siano volute garantire figure amiche con soldi che di fatto la banca non aveva più. Nello stesso filone vengono setacciate circa 200 operazioni in cui erano stati concessi prestiti e fidi ad aziende ormai disastrate per circa 180 milioni di euro. La notizia dell'indagine a carico di Boschi ha suscitato le prime reazioni di Lega Nord e Movimento 5 Stelle che hanno chiesto le dimissioni della figlia annunciando una nuova mozione di sfiducia nei confronti del ministro. Gli indagati in tutto sarebbero 15, tra cui anche ex amministratori e componenti non solo dell'ultimo CDA. Nel frattempo, sul fronte dei rimborsi ai risparmiatori, Lanza rileva che il fondo di solidarietà da 100 milioni istituito dalla legge di stabilità per gli indennizi ai risparmiatori delle quattro banche in risoluzione potrebbe lievitare con nuove risorse private in arrivo dal mondo bancario. A questa possibilità, a quanto si apprende, sarebbe legato il ritardo dei decreti per individuare i criteri dei rimborsi. Al momento si sta ancora valutando in quale tipo di provvedimento inserire la norma di legge necessaria per modificare la legge di stabilità, ma è certo che le risorse aggiuntive arriveranno ancora una volta dal sistema, come già accaduto, per i primi 100 milioni. Il ricorso a fondi pubblici sarebbe infatti bloccato dall'Unione Europea.